Quali sono i meccanismi che controllano e regolano il comportamento degli esseri viventi complessi? Come si adatta il nostro corpo alle sfide della vita quotidiana? Nel corso di fondamenti di fisiologia risponderemo a queste domande e tante altre. Attraverso un viaggio nei meandri del corpo umano comprenderà in maniera semplice e chiara come l'organismo mantiene l'omeostaci, quanto sia importante e necessario considerare l'organismo umano nel suo insieme e come diversi sistemi e meccanismi, integrandosi l'uno con l'altro, lavorino per consentire al corpo umano di mantenere i parametri vitali entro i valori fisiologici necessari per il corretto funzionamento e la sopravvivenza. Se dunque sei interessato a comprendere le funzioni degli esseri viventi, a conoscere i meccanismi di base a livello molecolare, ad approfondire le funzioni di cellule e organi, nonché il comportamento integrato di tutto il corpo e vuoi imparare a sviluppare nuovi trattamenti e linee guida per il mantenimento dello stato di salute, sei pronto ad un'avventura in questa avvincente materia. Ti aspetto su Federica EU.